l'attesa è finita amadeus ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura sul 9 il conduttore celebre per i suoi successi su rai 1 ha presentato i suoi due nuovi programmi suzuki music party e chissà chi è l'ex soliti ignoti durante una conferenza stampa l'attenzione è tutta puntata su questa nuova fase della sua carriera con una sfida diretta al suo ex show affari tuoi ora condotto da stefano de martino durante l'incontro con i giornalisti amadeus ha colto l'occasione per parlare del suo passato in rai non ha risparmiato una frecciatina rivelando di non aver mai ricevuto un grazie per aver riportato affari tuoi al successo e di non aver mai guardato una puntata condotta da de martino non guardo mai i programmi che lascio come non si osserva un ex fidanzata con il nuovo partner ha dichiarato scherzando amadeus ha sottolineato l'importanza di attendere la fine di una stagione prima di festeggiare i successi ricordando con orgoglio di aver portato l'eredità su rai 1 più di 20 anni fa ora con i suoi nuovi progetti sul 9 è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera grazie Grazie.